Non potresti utilizzare il metodo di Ruffini e di non poterti gondolare sulla sedia? Vorresti conoscere la verità sulla spedizione dei mille e sulla scoperta dell'America? E nella scuola mattinista! E ti parleremo anche dello sfruttamento dei bambini per l'estrazione del cobalto! In patristica intendiamo quella parte di storia del pensiero cristiano, ma anche della filosofia, che riguarda i padri della Chiesa, una definizione che nacque intorno al V secolo d.C., che definisce quell'insieme di autori occidentali, ma anche orientali, sempre in ambito europeo, che in qualche modo iniziarono a definire, dal punto di vista religioso, ma anche speculativo, quindi teologico-filosofico, i punti fondamentali della dottrina cristiana, anche per come la conosciamo oggi. e sono quindi degli autori fondamentali non solo per la storia del cristianesimo e della dottrina cristiana, ma anche per la storia del pensiero filosofico, perché in qualche modo rappresentarono il ponte che collegava l'antico e il tardo antico al Medioevo. In qualche modo, anzi, entrarono nel Medioevo, perché autori patristici di fatto vengono fatti rientrare già neanche nell'arco cronologico del Medioevo. Quindi, per appunto definire una periodizzazione di massima, senza poi appunto suddividerla in tutte le ulteriori specificazioni che la letteratura critica negli anni ha aggiunto, possiamo definire con un buon grado di precisione che la filosofia patristica si sviluppò tra il primo secolo d.C. e l'ottavo secolo d.C. In particolare, i primi due secoli, il primo e il secondo secolo, furono quelli in cui si sviluppò un periodo per lo più apologetico. Si parla infatti soprattutto di padri apologisti o anche di padri anteniceni, perché poi il concilio di Nicea del 325 incirà un passaggio a un periodo differente. Terzo e quinto secolo d.C. sono quei secoli in cui si ebbe una stabilizzazione delle dottrine redditate dai primi secoli, soprattutto attraverso i concili, ma anche attraverso appunto le opere di questi autori importantissimi. E dopodiché dal V secolo fino all'VIII secolo d.C. si ebbe una rielaborazione di queste dottrine che avevano trovato già una stabilizzazione formale e poi pian piano un lento declino dovuto a vari fattori storici. Convenzionalmente si fa risalire l'inizio del periodo patristico alle lettere di Paolo, che probabilmente furono raccolte verso l'anno 80. Viceversa la fine del periodo patristico va differenziata, perché secondo la critica la patristica occidentale troverebbe conclusione con la morte di Beda il Venerabile, mentre la patristica orientale con la morte di Giovanni Damasceno. Due autori insomma molto importanti per i due ambiti di sviluppo della patristica in Oriente e in Occidente, quindi di ambito greco e di ambito latino. Oltre alla periodizzazione è fondamentale definire un arco di sviluppo spaziale, perché già da questi brevi riferimenti a questi autori si capisce che la patristica ebbe un sviluppo onnicomprensivo rispetto all'ambiente cristiano europeo. Cioè lo vediamo in questa mappa che ho potuto reperire da internet, che sono tantissimi gli autori che sin dai primi secoli fino poi agli ultimi, quindi al tramonto della patristica, trovarono spazio per le proprie elaborazioni sia in ambito latino, sia in ambito greco, ma potremmo anche allargare il campo. Si potrebbe andare più a ovest, arrivare a Isidoro di Sevilla, o andare più a est, in Armenia, e trovare Gregorio Luminatore. Quindi diciamo una ricchezza che colpì e fu condivisa, seppur nelle differenze dei diversi contesti, tutta l'Europa cristiana. E adesso quello che è però importante capire è come possibile che ci sia stato questo sviluppo prorompente rispetto a delle, diciamo, situazioni iniziali di difficoltà. Perché, come abbiamo detto, i primi padri sono quelli apologisti e quindi la prima dimensione della patristica fu quella apologetica, una dimensione di difesa del cristianesimo che non era religione ufficiale e quindi doveva sgomitare tra diverse concorrenze di tipo filosofico, ma anche in alcuni casi lotte proprio per la sopravvivenza. E quindi non è immediato questo sviluppo, questo passaggio poi e questa crescita. Cioè i primi autori dovettero lottare con tutte le armi che il pensiero offriva loro per poter poi permettere uno sviluppo tale da avere così tanti autori, così tanto disseminati dalla Spagna fino al Medio Oriente. Quindi l'esigenza primaria fu quella di difendere il cristianesimo e di poterlo far arrivare a quante più genti possibile. Ma allo stesso tempo l'esigenza era anche un'esigenza di tipo eminentemente speculativo, cioè la Bibbia non è un testo teologico, non è un trattato. Necessitava di un'interpretazione, di una messa in forma, di un complesso di dottrine che in qualche modo la spiegassero, la formalizzassero. E questo è un compito anche eminentemente filosofico e quindi la padristica è anche una grande avventura del pensiero. Non per forza perché ci fu l'accettazione di una verità di fede, questo comporta l'assenza di un valore filosofico. Questo ci tengo a sottolinearlo perché non è stato spesso detto nel corso degli anni rispetto alla padristica che di fatto è quasi per lo più abbandonata nei studi filosofici. Quindi per la ricchezza stessa del periodo, per la differenza dei contesti, è difficile riassumere tutti i caratteri di tutti gli autori, necessiterebbe di un corso a parte solo la padristica. Possiamo parlare di alcune caratteristiche di massima nel rapporto con la filosofia, alcuni dei temi in qualche modo che furono più impegnativi per questi autori rispetto alla consueta applicazione filosofica di questi temi. Ad esempio, eternità e infinità sono attributi positivi di Dio, non così per gran parte della tradizione filosofica antica. Non sono, soprattutto se pensiamo ad Aristotele, non sono caratteri positivi l'infinità, l'eternità. In secondo luogo, la libertà. Di che libertà si può parlare di fronte a un mondo che è necessariamente perfetto perché creato dall'essere perfetto per eccellenza. E quindi un mondo che è necessariamente perfetto non solo perché l'essere perfetto così l'ha pensato, ma perché è emanazione di una volontà divina perfetta. Questo va tenuto a mente. Pensiero e volontà di Dio perfetti in un mondo che quindi deve essere necessariamente perfetto. Poi, che rapporto c'è tra libero arbitrio, una volta che poi si sia spiegato di che libertà si parla, e il problema del male? Ancora, antropomorfismo di Dio, tema che trovo forte critica, forte opposizione nella filosofia antica in diversi modi, però qui si aggiunge anche il teomorfismo dell'uomo, cioè le due cose vanno insieme e rappresentano grandi ordini di problemi. In ultimo, come va giustificata la condizione rovinosa in cui versa l'uomo nella creazione, come la filosofia affronta questa perfezione di volontà di Dio, la libertà perfetta, l'uomo creato immagini e somiglianze di Dio, come va conciliato tutto questo col fatto che l'uomo nella creazione è versa in una condizione assolutamente rovinosa e di peccato. Quindi questi sono solo alcuni e sono temi generalissimi che poi trovano applicazioni molto più dettagliate, specifiche, perché i testi patristici sono testi spesso di rara complessità, in cui sì, sicuramente c'è il riferimento costante alle scritture che poi è un tratto che verrà ereditato dalla filosofia medievale, cioè il continuo riferimento autoritativo alle scritture, la citazione di passi scritturali e un'interpretazione, e poi il fatto di portare questi passi scritturali, tra virgolette, dalla propria parte, a sostegno della propria interpretazione, della propria teoria, della propria proposta filosofica. Ma c'è tutta una dimensione di complessità che poi viene manifestata da questi testi che spesso sono veramente molto dettagliati e complicati, soprattutto in ambito greco, perché questo è un altro elemento da spiegare anche qui in breve. C'è una differenza fortissima tra l'Occidente latino patristico e l'Oriente greco e sono due contesti che nonostante la mappa di prima ci mostrava come fossero in contiguità, come se fossero così vicini, in realtà si presentavano con scarsissime relazioni tra loro. Sappiamo che c'era un rapporto tra origine e San Gerolamo, sappiamo che Gregorio di Nissa scrisse un'opera al Deo Bificio Ominis che in qualche modo fu letta e recepita da Giovanni Scodo erogena, ma stiamo parlando di pochissimi contatti. Noi in Occidente latino già si vede nel proseguo della patristica degli autori latini una sempre più presente perdita di contatto con la filosofia greca. Aristotele nel corso dei secoli diventa sempre più semplicemente l'autore della dialettica con cui però gli autori latini inretendono in realtà la retorica e quindi, questo solo per fare un esempio, abbiamo due contesti con delle differenze fortissime. Quella principale, o meglio che ci interessa per introdurre di più da vicino questo periodo, è proprio il rapporto con la filosofia, che si presenta estremamente differente. L'amatristica greca ha un rapporto strettissimo con la filosofia e questo sembra quasi strano se ricordiamo il discorso di Paolo ad Atene, di cui si parlava nella lezione precedente, che sembrava quindi presentare grandi difficoltà per il cristianesimo rispetto al contesto greco. Così non sarà. Perché non sarà così? Perché in qualche modo, per farla breve, il neoplatonismo assumerà delle forme marcatamente teologiche alla fine del suo sviluppo rispetto al platonismo originario e in qualche modo sarà quindi più vicino alle dottrine cristiane, almeno agli occhi degli autori di quel contesto, gli autori cristiani da ambito greco. E quindi soprattutto l'idea centrale del neoplatonismo, cioè il decadimento della creatura, degli enti che compongono l'universo e il mondo, che quindi li dovrà portare poi a un ritorno all'uno, ad una realtà originaria perfetta. E soprattutto anche poi la strutturazione metafisica dell'universo sarà un tratto del neoplatonismo che verrà in qualche modo assimilato e ai loro occhi corretto da parte degli autori greci, che quindi, ripeto, di fronte a una filosofia tardo-neoplatonica che assume dei caratteri fortemente teologici, renderà più accessibile il patrimonio filosofico a questi autori che quindi scriviamo dei testi fortemente connotati da grande densità teoretica e spessore speculativo e quindi anche da delle complessità proprio nell'argomentazione che spesso non si trovano negli autori di ambito latino, che, contrariamente agli autori di ambito greco, avranno invece un rapporto molto più conflittuale con la filosofia. Perché? Perché mentre per gli autori greci la filosofia con cui si confrontavano, per la diffusione che aveva nel loro contesto, era quella neoplatonica, di quel neoplatonismo, di cui parlavamo prima, a forti matrici metafisico-teologiche. Invece, nell'Occidente latino, gli autori si confrontano con la dottrina accademica, la dottrina accademica attrazione scettica, che riteneva inaccessibile qualsiasi contenuto di verità da parte dell'uomo. Chiaramente questo per degli autori cristiani, che ritenevano di aver avuto non accesso alla verità, ma di aver ricevuto la verità in dono averla vista, averla sentita parlare, era un elemento che rendeva la filosofia un campo assolutamente ostile. Tanto che gli autori, per esempio, come Tertulliano, poi parzialmente da Agostino e altri, insomma, la filosofia è qualcosa di assolutamente privo di valore. Ha valore la razionalità umana, ma ha valore quando ha accolto la fede. Ma la filosofia che conoscevano questi autori era qualcosa che non permetteva di cogliere la fede. E quindi loro non hanno in mente magari Platone, Aristotele, Oplotino, Proclo, sempre per porre il riferimento invece alla dimensione greca. Ma hanno in mente questa dottrina, che era quella che andava per la maggiore, quella accademica di scuola poi ciceroniana all'origine, che impediva qualsiasi elemento di vicinanza al cristianesimo. Quindi, mentre in Oriente c'è un legame più stretto tra pensiero filosofico e pensiero patristico, il pensiero patristico latino vive di un confronto serrato molto più battagliero con la filosofia. E questo lo si vede nella stragrande maggioranza di questi autori, fino ad Agostino, che appunto, confrontandosi con questa tradizione filosofica e anche prendendone il buono, quello che ai suoi occhi era il buono, riuscirà in qualche modo a conciliarli nell'ottica di un essere, l'essere umano, che va considerato come un essere cercante, un essere che è sempre predisposto alla ricerca. Questo nella filosofia accademica è una ricerca che non si esaurisce mai, nel cristianesimo anche non si esaurisce mai, ma comunque trova una sua delimitazione, un suo terreno, che è quello che è completamente assimilata dall'uomo, ma che permette di essere costantemente sì alla ricerca di questa verità, ma senza perdersi, cosa che invece era l'accusa che veniva mossa dai primi autori cristiani latini alla filosofia. Tutto questo chiaramente è, spero non confuso, ma sicuramente difficile da riassumere in poco e in poco tempo. Quello che io spero di essere riuscito in qualche modo a comunicare è che la patristica rappresentò un'esplosione di pensiero, cioè l'opposto di quanto si crede, cioè che la patristica sia stata un periodo di assenza di filosofia, come se la filosofia fosse andata, se pensiamo ai programmi scolastici, come se la filosofia fosse in qualche modo andata in vacanza dopo magari il neoplatonismo e fosse poi ritornata magari con Agostino e poi soprattutto con Tommaso. Dobbiamo assolutamente abbandonare questi modelli e riconoscere a periodi come anche la patristica tutta la sua valenza filosofica e non solo teologica ma filosofica e teologica. Al Medioevo giunse un mondo di pensiero quasi in maniera sotterranea che la patristica aveva potuto conservare anche magari non conoscendo tutta la filosofia che dopo era riscoperta, ma tutto questo esercizio della ragione che veniva fatto in qualche modo si sovrappose al pensiero filosofico antico e tutto questo, questo incontro, diventò fecondo e germogliò poi nella filosofia medievale in tantissimi modi, in tutti i secoli che contraddistinsero la filosofia medievale. I padri della Chiesa, questi primi pensatori, strutturarono tutto un complesso di dottrine che non possiamo proprio, anche solo accostandovi con un primo approccio, considerare scarno di valore filosofico. E concludo offrendo un'immagine che ho tratto da un testo di Chesterton, Ortodossia, che secondo me fa capire benissimo anche questo pathos del primo pensiero cristiano e che in qualche modo per questa forma di conflittualità e di necessità di elaborare, di interpretare, di comprendere sempre più approfonditamente, proseguì anche nei secoli successivi, anche oltre il Medioevo, in un modo analogo come accadde ai autori padristici. Quindi scrive Chesterton, la Chiesa nei suoi primi tempi era fiera e veloce come un cavallo da guerra, tuttavia estremamente antistorico affermare che sia impazzita inseguendo puramente un'idea alla stregua di un volgare fanatismo. Deviava bruscamente a destra e a sinistra, in modo da evitare ostacoli immensi. Ha lasciato da parte l'enorme mole dell'arianesimo, sostenuto da tutti i poteri terreni che volevano rendere il cristianesimo troppo terreno. Subito dopo ha dovuto cambiare lungo direzione per evitare un orientalismo che l'avrebbe resa troppo ultraterrena. La Chiesa Ortodossa non ha mai scelto di percorrere la via già abbattuta o di accettare le convenzioni. La Chiesa Ortodossa non è mai stata conformista. Sarebbe stato facile accettare il potere terreno degli ariani. Sarebbe stato facile nel XVII secolo calvinista cadere nel pozzo senza fondo della predestinazione. E poi più avanti ancora dice Chesterton, ma avere evitato tutto questo è stata un'esaltante avventura e nella mia visione il carro celeste vola come un tuono attraverso le epoche mentre le vane eresie crollano sconfitte e la verità, indomita, oscilla ma resta in piedi.